Allora, ho comprato il bastone, c'è proprio volo, ciao, proprio, bello comodo così. Allora, come sto? Grazie alla domanda, sto abbastanza bene, dai, lo dico la verità, tra momenti comunque di un po' di sconforto, momenti di grande entusiasmo, cerco di vivere il qui e ora, devo dire che ho riscoperto per l'esima volta un grosso equilibrio, quindi sono molto fiero di me del lavoro che ho fatto, anche in terapia, ma comunque credo che parta un po' dallo schema educativo che ho avuto io. Quindi vi dico, direi abbastanza bene, con tutte le difficoltà del caso, poi programmi, no, mi dedico a me stesso, quelle cose che mi piace fare, quindi lavoro, quindi calcio, stiamo lavorando per fare una squadra comunque competitiva, e mi alleno e organizzo le vacanze, that's it. Ah, nipoti di momenti di sconforto, Alessio Falzone secondo me ha il cuore spezzato e noi vogliamo sapere questa cosa qua, lo stalkeriamo, ciao!